Musica Ben trovati da Tu per Tu, oggi in studio abbiamo la consigliera del PD Lucia Maestri, consigliera provinciale, grazie di essere con noi maestri Grazie a voi, grazie a voi Allora io ho tante domande da farle, lei sicuramente ha tante risposte da darmi Allora, notizia di queste ore proprio che nella corsa alle provinciali di ottobre il PAT si è avvicinato a Fugatti Stanchina punta i piedi e vice sindaco in comune a Trento a un piede fuori dal PAT Insomma, so che non è argomento, è brutto guardare in casa ad altri Ma voi come coalizione di centro-sinistra state alla finestra e cosa fate? No, noi osserviamo abbastanza stupiti questo mercimonio che il PAT fa delle questioni programmatiche Avessero presentato a noi questo elenco programmatico anche noi non avremmo avuto modo di dire di no Certo loro hanno facilità nel dire che noi non abbiamo un leader C'è una coalizione però con la quale il PAT governa sia a Trento che a Roveretto Si decidessero perché non si può stare in coalizione a Trento, a Roveretto e poi cambiare casacca andando in provincia C'è una linearità dei valori, centro-destra e centro-sinistra non sono intercambiabili Quindi si decidessero, mi dispiace un po' che il segretario Marchiori abbia accelerato il percorso in questo modo Sapendo che comunque l'interlocuzione con il PD è sempre stata aperta anche per parte mia e non solo per parte mia Dispiace, capiamo che c'è una logica che prescinde dai valori Che va a contrattare posizioni e che non tiene conto peraltro della dinamica nazionale Perché a me risulta estraneo il fatto che Fratelli d'Italia non possa essere parte della compagine del governo provinciale futura Ecco, cambiamo argomento, parliamo di scuola C'è un disegno di legge, quello della consigliera Masè che tende a unificare, uniformare, omogenizzare il percorso fino a sei anni Poi c'è Filippo De Gasperi che sta presentando un disegno di legge per uniformare invece il calendario dai tre anni in poi a quello calendario scolastico normale C'è fermento, io le dico queste cose, lei sicuramente ne ha il corrente Per capire qual è la sua posizione sulla scuola, in questo caso su chi entra nel mondo della scuola Intanto, sulla scuola si sta facendo veramente di tutto e di più Ed è terribile il fatto che questa giunta abbia inteso con diversi provvedimenti Mettere le famiglie contro la scuola, gli insegnanti e gli insegnanti contro la scuola Parto dalla questione del mese di luglio Che è la questione più dibattuta, più in auge Ma come si fa a non riconoscere che il percorso scolastico Perché le scuole dell'infanzia sono percorso scolastico Non può essere frammestato e confuso Con un percorso di altro tipo Allora, non si può come fa il mio collega Packer dire Le maestre vadano a lavorare perché non vogliono fare niente in luglio E noi le paghiamo E noi vogliamo No, le maestre hanno un loro percorso formativo Peraltro universitario come la legge stabilisce Perché la scuola dell'infanzia è scuola Noi facciamo in modo, dovremmo fare in modo Di dare ai bambini e alle bambine che dopo tanti mesi sono a scuola Un momento di svago pur nella capacità creativa e di crescita Con iniziative complementari Che possono e debbono essere create anche fuori dalla scuola Ma sostenendo le famiglie nei loro costi Allora, la giunta provinciale butta fuori dei dati di frequenza 75% degli iscritti Degli iscritti E poi la frequenza si rivela essere il 44% di quel 75% Ma cosa vuol dire questo in termini di costi? Significa comunque tenere le scuole dell'infanzia aperte tutto il mese A costo complessivo per una quantità di iscritti notevolmente inferiore A quella che potrebbero ospitare in tempi normali Ma se noi dessimo quei denari alle famiglie Che potrebbero scegliere tra le diverse attività che il territorio propone Un momento formativo ulteriore ai bambini e ai ragazzi Anzi ai bambini e alle bambine perché partiamo di bambini Non sarebbe meglio Non riconoscere che la scuola ha una sua funzione Pedagogica, formativa Ma scambiarla come un momento di conciliazione Dei bisogni delle famiglie È sbagliato È sbagliato Non lo dico io Ma illustri pedagoghi, illustri educatori Fanno questo ragionamento Allora In una provincia autonoma come la nostra Forse noi dovremmo mettere una marcia in più in questo senso Ma però contesto nella maniera più assoluta Il modo di agire di questa giunta Che mette le scuole contro le famiglie Le famiglie contro le scuole Le città contro le valli In una divisione di una comunità pur piccola Che dovrebbe per completare il resto del mondo Essere unita Ecco, le faccio Abbiamo esaurito il tempo Ma le faccio più che una domanda Una richiesta E vale a dire Una volta la politica Lei covera con me Disegnava la società Interpretava la società E apriva scenari Adesso la rincorre Si parla tanto di intelligenza artificiale Lei ha lavorato all'FBK Di conseguenza è pane per i suoi denti E si parla di intelligenza artificiale Chat GPT Esami a scuola Già tesi che si scrivono con la chat GPT Con l'intelligenza artificiale Le faccio un'ipotesi Che succederanno sicuramente quando io sarò in vita Ma fra qualche anno E vale a dire Io ho bisogno di costruire una casa Entro in intelligenza artificiale Metto dentro i dati Mi esce il progetto della casa In questo momento Non mi serve più l'ingegnere Non mi serve più il geometra Il perito edile Non mi serve neanche più Fare un capitolato Mi esce tutto La politica Sta pensando Il Trentino è un laboratorio E do questo compito Prepari un disegno di legge Lei che ha lavorato all'FBK Per gestire L'intelligenza artificiale In maniera tale Che non sovrasti i cittadini Si sente in grado di farlo Un compito molto difficile Anche perché C'è la tendenza Pensare che La macchina Possa sostituire l'uomo La macchina può aiutare l'uomo Ma la macchina Se non è Programmata E gestita dall'uomo O dalla donna Certamente Non è Un computer Se la tua intelligenza Non dà la funzione Non funziona da solo E la politica deve fare questo Abbiamo il tempo che scade Sì La politica deve Tracciare le linee fondamentali Di indirizzo E pensare Che la macchina Mai potrà sostituire l'uomo Mai Le ho dato un compito Mi permetta Prepari un disegno di legge Per capire Proverò Ci proverà Noi ringraziamo Lucia Maestri Consigliera del PD Ringraziamo soprattutto voi E ci rivediamo Con un altro ospita Da tu per tu Grazie ancora Grazie Grazie Grazie